Bentornati, è appena terminata la partita tra Tilger Panini Funiculi Funiculà e Tilger Snai Cozzolino. La partita è terminata con un risultato di 4-0 per i Tilger Funiculi Funiculà. Ragazzi presentatevi, qui abbiamo il mister che ha sostenuto la squadra anche sotto la pioggia. Borrello Vincenzo. Adelio Privato. Antonio Fili. Morra Vincenzo. Allora mister, cosa ti... Fuh, vabbè, sei soddisfatto di questa partita? Sì. E va, è di qualcosa. E fortunatamente è arrivato altri tre punti e siamo andati bene. Siamo a nove punti, partite tre vittorie, quindi sono contento così. Mi cassa stai facendo il video. Bravo. Sì, poi, tu, aspetta, tranquillo però, vai. In questo Danneo c'è poca serie da... Eh, vabbè, ok. Allora, sì. Buonasera, Pozzerice. Complimento alla mia squadra e anche agli avversari perché sono stato bravo, hanno jugato la partita, però siamo stati superiori, sicuramente. Sì. Dobbiamo rappresentare la squadra avversaria, no? No. No. Vabbè. Vai. Date il gol a Manolo, piacere. Ok, daremo questo gol a Manolo perché senza il gol non riesci a vivere. Dedicalo questo gol, dedica. Voglio fare un complimento al mio portiere, il mio giocatore preferito e il mio compagno preferito. Va bene, tu vuoi dedicare il tuo gol? Prego. Volevo dedicare il mio gol al mio grande amico Giorgio Pizza. Ok. Che mi contiene sempre. Tu invece? Presenta il gol. No, 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 no. Vuoi dire qualcos'altro? Ok. Saluta la Maverick. Ciao, Maverick.